ok giallo facciamo questa challenge io ti faccio vedere alcuni dei principali modelli di mercurial anche del passato e devi mettermi in una classifica da masterpiece a decent scegli tu ok ci siamo andiamo con la prima mercurial del 98 masterpiece ti ricorda qualcuno in particolare fenomeno questa questa decente dai ok questa sempre masterpiece forza questa questa good dai capendo che ti piacciono più quelle colorate vedo che quella me la ricordo questa qui acqua una superfri 2014 amazing cr7 si questa qua comodissima questa qua amazing questa ce l'hai avuta in Italia anche questo colore si questa qua proprio che un po ricorda è quella che stiamo andando a presentare ora questa queste queste qua amazing questa masterpiece bellissimo e arriviamo ad oggi è masterpiece forza ciao